Buongiorno, siamo all'interno della cucina dell'appartamento che stiamo sempre visitando, apprezziamo quell'ambiente dove si apre e dà più spazio per mettere quello che previsibilmente potrebbero essere l'angolo dedicato ai mobili e poi accediamo anche al balconcino che è spazioso e dà possibilità anche di uno sfogo a quello che è la cucina e anche sulla vegetazione e gli alberi che stanno all'interno. Io vi consiglio un fermo immagine del video in maniera tale che così potete apprezzare quelli che sono gli angoli anche di dietro dove c'è la porta e il collegamento a tutte le altre stanze e quindi apprezzate la cucina. Grazie. Per mio immagine.